Ciao a tutti da Anzio Cadore, esatto, questo è un saluto per tutti i tuoi fan, per tutti i miei fan, mamma e papà, ciao mamma, ciao papà, e tutta la carovana che c'è tu, portiamo fino al 17 di aprile al Teatro Sestina, grande Caifa, si, Caifa, con la voce molto più bravissima, ci aspettiamo, ecco, mi raccomando, Gesù che è super stata, grande, ciao, ciao.